Buongiorno, che laboratorio è questo? Questo qui è il laboratorio giardinaggio, praticamente. E gli faccio vedere come si mette giù una piantina di insalata e poi voglio fargli vedere proprio come nasce la pianta. Questa qui è il seme dell'insalata, questo è il seme dell'insalata. E da qui viene fuori le piantine di insalata e dopo, man mano che cresce, si mettono nei vasetti così e poi dopo si pianta nel terreno e vengono sulle insalate. C'è vari tipi di insalata, questa ad esempio è una insalata... Buonissima l'insalata. Questa qui viene chiamata pan di zucchero è un'insalata diciamo tra le foglie un po' di vino croccante rispetto ad altri limiti, come la centilina che viene dall'alberto. Perciò... E perchè non possono lavorare con le foglie un po' di vino croccante? Eh, proprio per farvi capire come nasce una piantina di insalata, come si... si inizia a fare l'orto diciamo. è un'insalata di un'insalata di un po' di vino croccante. E poi... ... 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